Sono stati 8 dall'inizio del 2019 i superamenti giornalieri di PM10 accertati dalla stazione area dell'Arpav situata in via Colombo a Feltre. Nella scorsa settimana si è registrato infatti un aumento della concentrazione delle polveri PM10 che hanno oltrepassato il limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo in 5 giornate che sommate ai 3 della prima settimana dell'anno portano ad un totale di 8. Un dato che appare in controtendenza se si pensa che nel 2018 appena concluso la soglia giornaliera di 50 microgrammi per metro cubo d'aria è infatti stata superata nell'intero anno in 28 occasioni quindi al di sotto delle 35 massime previste dalla legge. In particolare lo scorso weekend la giornata di sabato 12 gennaio ha registrato una media giornaliera di 67 microgrammi per metro cubo e 73 sono stati invece quelli registrati domenica 13. L'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto ha inoltre reso noto come la situazione di criticità sia diffusa in gran parte del territorio regionale. Complessivamente su un totale di 26 stazioni che effettuano il monitoraggio in automatico delle PM10 fa sapere sempre Arpav, ben 21 hanno superato nella giornata di domenica 13 gennaio il valore limite giornaliero in tutte le province, anche nel bellunese e in particolare per la stazione di aria feltrina. Le condizioni di prevalente alta pressione che da oltre una settimana stanno interessando la regione renderanno il tempo ancora stabile almeno fino a giovedì, quando l'arrivo di una saccatura atlantica porterà nuvolosità e successivamente l'aumento della probabilità di precipitazioni. Di conseguenza, ricorda Arpav, fino a giovedì 17 gennaio si avranno ancora in prevalenza condizioni di ristagno degli inquinanti nella bassa atmosfera. L'unico fattore che temporaneamente potrà favorire una parziale dispersione delle polveri fini sarà un moderato aumento della ventilazione nelle primissime ore di martedì. Va sottolineato infatti che nella giornata di ieri lunedì 14 gennaio la stazione di via Colombo a Feltri ha registrato 29 microgrammi per metro cubo, quindi non vi sono stati sforamenti.